Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Finalmente, e perché chi mi conosce lo sa bene che è una delle mie cose preferite e c'ho anche l'avatar, l'icona direttamente nel profilo di Steam vi voglio presentare il manuale operativo dei marine coloniali per il GDR di Alien a cura della Fria Ligan, che vi ricordo i prodotti della serie di Alien ma comunque tanti altri prodotti della Fria Ligan li stanno portando in Italia poi vi ci farò un video dedicato, la Weird Edizioni, li stanno traducendo in italiano e il regolamento base è già tradotto questo ovviamente no perché è appena uscito, magari fra un anno lo avremo anche in edizione italiana ma al momento si trova in edizione inglese, vi lascio il primo link in descrizione dove acquistarlo dal sito della Fria Ligan, si parla di Alien, si parla di marine coloniali di Colonial Marines, che sono la mia cosa preferita vedete anche dietro c'ho un fucile ad impulsi, quindi penso che più di così ora ve lo faccio vedere nel corso del video e quindi si va a parlare di un argomento a me molto molto caro e ve ne parlo a breve dopo la sigla e come direbbe il caporale X, ti voglio presentare un mio amico personale questo è l'M41, ha anche il lanciagranate, senti il peso, bellissimo tra l'altro ringrazio mia moglie, Stay Frosty, anzi ce lo mettiamo davanti che fa più figura durante il video e siccome sono malato, mi sono fatto fare anche da mia moglie il rilevatore di movimento il motion tracker dei marine coloniali allora, in questo regolamento, che ora poi vi faccio vedere leggermente da vicino anche per sfogliare un po' le pagine, farvi vedere l'impaginazione ma soprattutto cosa c'è all'interno, uno lo compra pensando di trovare comunque tutto quanto il materiale anche perché sono più di 352 pagine sui marine coloniali e tutto quello che gli sta intorno uno dice cosa c'è in tutte queste pagine per parlare dei marine coloniali c'è tutta l'ambientazione di Alien e anche non soltanto dei marine coloniali ma anche dei loro, tra virgolette, perché poi non lo sono, comunque anche loro nemici o diretti concorrenti perché in questo manuale si parla della nuova ambientazione di Alien e c'ho veramente la pelle d'oca, le setole del maiale mi dico sempre perché è tutto quanto canonico cioè non è un regolamento di un altro gioco di ruolo ispirato nel senso oppure proprio Alien però con la fantasia di un qualche scrittore con molta inventiva qui è tutta roba canonica autorizzata dalla Fox, dalla Disney e tutto quello che leggete c'è anche nel nuovo videogioco ad esempio Alien Fireteam Elite che a breve vi porterò sul canale ho già portato anche in live su Twitch ed è tutta quanta roba canonica collegata ai film Prometheus, Covenant, alla serie televisiva che verrà e quant'altro infatti in questo manuale si citano tante volte la missione Prometheus la missione Covenant e anche il maledettissimo Android o per meglio dire persona sintetica David si parla di ingegneri, si parla di tutto è un manuale operativo dei Colonial Marines e ora c'è una bellezza dove si parla di anche, colgono l'occasione per parlare di tutta l'ambientazione retroscena, missione e quant'altro si parte da l'equipaggiamento dei Marine Coloniali che non è il semplice fucile impulsi che vedete qui davanti o la smart gun di Drake e Vaskets ma c'è molto di più anche nei tipi di navi da combattimento e quant'altro quindi vi descrivono tutto quanto, i comandanti, i generali, le divisioni ad esempio cose che non sapevano ci sono soltanto i Marine Coloniali ma c'è, ci sono anche, c'è la flotta della Marina che è un'altra cosa, lavorano tutti insieme ma è staccata ci sono addirittura, si parla delle Americhe Unite che sono il comando generale delle Marine Coloniali insomma ci sarebbe tante cose di cui parlare e si parla di una cosa importantissima che chi ha letto i fumetti della Salda Press già lo sa si parla delle guerre di frontiera in cui c'era anche il Marine Coloniale Zula Hendricks se vi ricordate che combatteva al fianco di Amanda Ripley che è la figlia di Ripley dei film c'è questa guerra di frontiera dove i Marine Coloniali combattono contro l'UPP che è un popolo di, cioè è un'associazione di popoli liberi ovviamente tutti provenienti dalla terra come anche i Marine Coloniali di cui fanno parte tipo Vietnam, Cina, Corea, Russia e molti altri paesi, tra 300.000 virgolette prendetele così comunisti, che hanno fatto questa alleanza e sono in diretta competizione con le Americhe Unite che a loro volta comandano i Marine Coloniali perché comunque c'è un interesse di guerra nel mezzo ma poi senza farvi troppi spoiler l'interesse principale da parte di tutti con il mezzo che sfonda la Weyland di Utania a rompere le scatole qual è l'oxenomorfo quindi cercare di far diventare un'arma weaponize per farvi capire lo xenomorfo e trasformarlo in un'arma che possa piallare e distruggere i propri nemici e purtroppo anche i Marine Coloniali che sono un po' dei canetti a volte dei servitori, dei tirapiedi delle compagnie come abbiamo visto nel firma Aliens cercano anche loro di trovare la combinazione giusta per tirare fuori questo xenomorfo famoso di Aliens e distruggere i loro nemici quindi è un manuale operativo dove trovate veramente di tutto ma ve l'ho detto non è soltanto il fatto dei Marine Coloniali ma vi parla del loro equipaggiamento dell'equipaggiamento dei nemici della Weyland di Utania della guerra di frontiera ci sono una decina d'avventure da giocare più una trentina d'avventure secondarie ragazzi è un manuale che per tutti i fanatici di Aliens non vi deve mancare e consiglio d'amico non giocate di ruolo perché non vi piace magari o non avete il gruppo oppure semplicemente boh uno potrebbe avere anche la sua visione particolare preferirebbe magari fare un videogioco piuttosto che un gioco da tavolo un gioco di ruolo compratelo anche solo per collezione perché c'è delle cose dentro che vi raccontano dei retroscena di film che io che posso dire di non so tutto però di essere un cultore di Alien perché la mia ambientazione è preferita uno che si documenta ci sono tante cose che non sapevo all'interno e quindi è veramente molto bello io ringrazio la Freya Ligan per avermi offerto questa copia per la recensione se lo volete ordinare primo link in descrizione se avrete la pazienza ad aspettare non lavoro alla Weed però penso un anno due anni al massimo lo troverete sicuramente anche in versione italiana però intanto il regolamento di base dove vi parla già a grandi linee dell'ambientazione lo trovate direttamente in italiano e ci farò un video a breve fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto stay frosty